Tu hai diritto, Birra, hai diritto di partecipare alla riunione candominiale. Non ti voglio, no? Non devi essere così triste. Birra, ti assicuro che ti faccio partecipare, va bene? Ci vuoi partecipare? Birra? Birra? Questo cane mi dà un mucchio di soddisfazione. Come quella borsina lì di plastica. Veramente, guarda, parlo con la borsina e voglio vedere chi mi risponde. Borsina? È tutto sballato. Non t'ho chiamato adesso, non t'ho chiamato. Non t'ho chiamato, hai capito? Sta calma. Va bene? Dormi. Per la prima volta nella vita la birra mi ha obbedito, al contrario. Vabbè, accontentiamoci. Piccoli passi per ammaestrare questo incrocio tra Alano, Bulldog, Schwintzer, Schnauzer, Weiss, Doppelbock e Tubor. È un cane pericolosissimo, molto pericoloso. Ha mangiato... Praticamente la scomparsa dei dinosauri è dovuta a questo esemplare. Si vede, infatti, la sua ferocia. E soprattutto è molto docile, perché... E poi risponde ai comandi. Viene! E soprattutto risponde ai comandi. Viene! Ma il rumore in sottofondo era un po' anomalo. Che è stato? Chi è stato? Chi è stato? Ho bene capito, Severino ci cerchi. Va bene. Buonanotte.